C'è BAM, c'è 2FC, c'è GECI, sono tutti TAG, ovvero nomi di graffitari che nottetempo si sono divertiti a imbrattare il centro storico di Piacenza nonostante sia in corso già un processo per altri due graffitari. TAG, scarabocchi ed imbrattamenti. L'associazione proprietari casa con fedelizia di Piacenza ha denunciato una palese recrudescenza verificatasi nei giorni scorsi dell'odioso fenomeno del graffitismo a Piacenza e particolarmente nel centro storico. Questo fenomeno negativo rappresenta un grave reato anche per l'abbassamento del livello di sicurezza percepito che provoca nella cittadinanza che il legislatore ha individuato come particolarmente pericoloso ai fini sociali senza contare i danni materiali arrecate alle proprietà private e pubbliche. Queste persone possono scorazzare per il centro e hanno il tempo quindi di apporre i loro tag che sono questi segni identificativi. Abbiamo pensato di richiamare appunto l'attenzione perché in passato nell'ottobre scorso fortunatamente, allora avevamo fatto un plauso anche agli agenti di polizia, erano stati colti sul fatto appunto dei ragazzi che stavano imbrattando i muri del centro storico. Sono stati immediatamente denunciati e tuttora c'è in pendente il giudizio. Quindi da quel punto di vista chiediamo alla Procura della Repubblica di dare impulso al provvedimento e quindi al procedimento per poter arrivare a una soluzione. Però abbiamo voluto segnalare questa recrudescenza proprio perché in questi giorni si sono verificati dei nuovi episodi per esempio in via Garibaldi quindi nel centro storico. L'associazione dei proprietari sottolinea che ricorrono anche i reati di deturpamento e di danneggiamento di immobili perseguibili d'ufficio se commessi a carico di immobili situati nel centro storico o sottoposti a vincolo storico artistico come nel caso della città emiliana. Inoltre a Piacenza ricorre anche la violazione del regolamento di polizia locale recentemente modificato. Il reato è proprio un reato di imbrattamento e di deturpamento perché se per qualcuno questa è un'arte però ovviamente non deve andare a scapito di altre forme di arte come quelle ovviamente riconosciute da tutti del centro storico quindi è una cosa proprio spiacevole da vedere e poi anche per chi subisce il danno materiale e per l'intero decoro della città.